Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qua nell'orto nel bosco come vedete alle mie spalle ho montato degli anelli che sono utili per andare ad eseguire il mio allenamento di calisthenics ho visto che il video sul calisthenics vi è abbastanza piaciuto e quindi oggi voglio andare a fare un'introduzione sul perché allenarsi, perché abbinare l'orto al calisthenics allora innanzitutto partiamo un po' dal contesto ambientale il calisthenics è un allenamento che si svolge prevalentemente all'aperto ovviamente salvo nei casi in cui piove o fa freddo però insomma come vedete io qua mi posso allenare tranquillamente basta avere veramente pochi attrezzi e l'allenamento a corpo libero lo puoi benissimo eseguire infatti non ci vogliono attrezzi particolari insomma basta avere una sbarra o al massimo degli anelli io qua in giro qualche sbarra ce l'ho ad esempio come vi ho fatto vedere la scorsa volta ho fatto le trazioni sotto il pergolato del fico ovviamente è una sbarra un po' dura da impugnare però lo si può fare benissimo comunque gli attrezzi oltre ad una sbarra per le trazioni magari degli anelli, dei muri dove appoggiarsi, delle sedie, dei tavoli o al massimo insomma delle parallele per poter eseguire insomma dei dip alle parallele oltre a questi attrezzi qua che sono comunque attrezzi tra virgolette domestici che sicuramente avrete nel vostro insomma nel vostro contesto oltre a questi attrezzi veramente l'allenamento si può eseguire poi è chiaro che man mano che si va avanti si potrebbe avere la voglia insomma di variare eccetera però questo è un altro discorso sicuramente lo vedremo più avanti bene ora passiamo alla parte più centrale quindi sul perché abbinare il calisthenics all'orto fa bene allora innanzitutto bisogna considerare l'orto come un'attività sicuramente piacevole però dove si va a fare fatica quindi nel nostro contesto andiamo a fare più di un lavoro tra cui vangare, zappettare, bagnare oltre che a tagliare la legna, potare comunque magari sollevare anche dei carichi abbastanza pesanti quindi se non abbiamo una buona muscolatura che ci sostiene il risultato è che ci possiamo infortunare o comunque avere dei dolori cronici il primo esempio che mi viene in mente è sicuramente quello del mal di schiena poiché sicuramente il mal di schiena è la prima cosa che ti può venire se fai insomma dei movimenti sbagliati o comunque hai una muscolatura debole e quindi questo va sicuramente a gravare sulla schiena e sotto questo punto di vista il calisthenics ci aiuta a rinforzare un po' questi punti deboli in cui spesso si possono insomma riscontrare dei dolori quindi abbinare l'orto al calisthenics si traduce nell'avere più forza nel fare i lavori agricoli oltre che ovviamente nel sentirsi in forma e comunque nello stare bene quindi questo secondo me è un po' il quadro della situazione sul perché abbinare il calisthenics con la tua attività agricola come ovviamente lo faccio io anche se io sono partito molto prima il mio percorso è stato un po' diverso se volete in un altro video ve lo racconto e poi ovviamente per ultima cosa fare calisthenics significa soprattutto divertirsi poiché vorrai migliorare negli esercizi che farai aumentarne la difficoltà e poi man mano l'appetito come si dice l'appetito viene mangiando ovviamente questo non significa adesso diventare dei guru dei guru dei muscoli eccetera no significa semplicemente allenarsi per stare bene per stare in forma ovviamente tutto insomma nei limiti quindi fammi sapere cosa ne pensi nei commenti se questo nuovo format di video insomma ti può interessare e quindi ovviamente io ti auguro un buon orto e un buon allenamento anche a te e ci vediamo come al solito in un prossimo video ciao